Le ultime elezioni a livello europeo e anche le elezioni amministrative in Italia hanno tracciato dei segnali molto significativi. Il dato francese è molto importante perché viene in qualche modo a sbriciolarsi l'asse portante Sarkozy-Merkel con la vittoria di Hollande, cambia lo scenario europeo. Il segnale più importante viene dalla Grecia. Le politiche dei commissariamenti dei poteri forti, delle banche centrali, delle grandi strutture sovranazionali vengono bocciate dai cittadini. La lotta alle disuguaglianze sociali, la vittoria della sinistra in Grecia dà un segnale chiaro. Nei momenti di crisi non può pagare il popolo, non possono pagare i ceti deboli e mantenere le rendite finanziarie dei poteri forti. È un segnale anche all'Italia, è un segnale anche al commissariamento del Paese in questo momento, alle politiche del rigore fino a se stessi senza sviluppo e senza crescita, alle politiche dei primi tempi senza i secondi tempi, alle politiche che salvaguardano i grandi patrimoni, le rendite finanziarie, gli scudati, i grandi carrozzoni di Stato, ma poi vanno a tagliare agli enti locali, tagliano ai ceti medi, ai ceti popolari, agli impiegati, agli operai e ai pensionati. Il risultato anche delle elezioni amministrative va in questa direzione. Innanzitutto vengono preinate le persone, questo è un segnale molto forte che non significa il personalismo della politica e l'individualismo, si fa la credibilità delle persone e dei movimenti e dei soggetti che li hanno appoggiati. Lo straordinario risultato di Luca Orlando a Palermo fa comprendere il crollo delle primarie così come concepite sinora. Le primarie possono essere una cosa seria ma sinora in Italia lo sono state molto poche volte. Devo dire il risultato importante anche di Genova, il risultato in altre città segna l'avanzamento di un centro-sinistra partitico diverso ma soprattutto della società civile, delle persone, dei cittadini, dei movimenti in questa direzione è straordinario il risultato del movimento a 5 stelle in alcune regioni, persone che hanno lavorato sul territorio, che hanno idee chiare. Quindi questa è l'indicazione per le politiche del 2013, il protagonismo della cittadinanza attiva, dei movimenti. Quindi bisogna trovare subito una formula o una grande lista civica importante e nazionale che appoggi quella parte che ci vuole stare del centro-sinistra partitico al cambiamento o l'immediata realizzazione di un soggetto politico nuovo perché il popolo non vuole più aspettare. I segnali sono chiari, l'abbiamo viste con le elezioni amministrative a Napoli, a Cagliari, a Milano di poco meno di un anno fa, lo stiamo vedendo adesso con Palermo, con Genova, con gli altri risultati importanti nelle altre parti del paese. Il PDL sostanzialmente scompare, quindi un ulteriore avvicinamento al tramonto politico berlusconiano ma anche la Liga ha avuto un segnale molto forte, è finita la litania falsa della Roma ladrona. Oggi l'Italia è molto unita, non nell'antipolitica ma in una voglia di politica diversa, una politica credibile, delle mani pulite, dell'uguaglianza sociale, dei valori costituzionali, della radicalità. Basta anche con questo discorso dei moderati e degli estremisti. Il popolo italiano oggi è radicale nella voglia del cambiamento e non significa estremismo, significa normalità, significa voglia di guardare lontano, di avere visioni strategiche e la vera sfida che noi stiamo realizzando anche a Napoli è quello di dimostrare di poter essere rivoluzionari governando. Ecco perché stiamo andando nella direzione giusta anche di una globalizzazione dei diritti e delle persone rispetto alla globalizzazione delle merci. Questo è un segnale fortissimo anche per il governo Monti e per i partiti che lo sostengano che hanno avuto a mio avviso una sonora sconfitta politica.